Sei appassionato di borsa e di mercati finanziari, ma hai poco tempo durante la settimana? Nessun problema, abbiamo programmato un corso di analisi tecnica operativa che si svolgerà sabato 9 febbraio. Assieme al nostro trader Andrea Lusardi analizzerai e studierai i principi fondativi dell'analisi tecnica e tutti gli strumenti di cui è composta questa disciplina. Potrai così acquisire la capacità di capire e interpretare il movimento dei prezzi al fine di effettuare operazioni profittevoli di trading. Per informazioni contatta gli uffici Finbes o invia un'e-mail a info-finbes.it. Ti aspettiamo!